ciao allora sono appena tornata da fare la spesa tra l'altro sono andata con ornella fatto in casa è più buono seguitemi su instagram perché ho fatto delle storie un po esilaranti la ricetta fitto comunque sono andata con ornella ci siamo portati anche stefano perché lui guida la gip che abbiamo riempito quella macchina era allucinante siamo andati da lidl e vabbè siamo tornate ad un orario in genere voi mi chiedete spesso gli svuota la spesa ma io li faccio la sera quindi torno tardi non ci sono luci visto che siamo andate ad ora di pranzo e siamo tornate ad un orario allucinante alle 3 infatti abbiamo mangiato da poco c'è ancora pochissima luce però c'è mi sono detta va bene facciamo questo svuota la spesa così le mie ragazze le mie patate perché ormai mi chiamo patate non lo so perché le mie patate sono contente bene ho anche scattato perché tutto questo sono un po esaurita oggi fa 300 mila cose praticamente partiamo dagli inizi stamattina anzi ieri sono tornata con il treno da sorrento bene ci ho messo tre ore prendendo le coincidenze a filo il che raccapricciante tre ore per fare 60 chilometri sono tornata stanca avevo dei lavori da fare un video da sottotitolare mi sono detto vabbè lo farò domani mattina mi sveglio presto preferisco andare a dormire lo farò presto domani mattina mi sveglio alle 6 vado a vedere non avevo il materiale perché il materiale c'era comunque un file corrotto scaricate sempre il materiale quando ve lo mandano quindi alle 6 di stamattina ho detto cosa mi sono svegliata a fare a fare ho contattato subito il cliente però mi ha risposto ovviamente le sette e mezza avevo prenotato alle 9 un ticket alle poste per fare un resto di amazon quindi caracollati alle poste dopo aver fatto il video perché alla fine sono riuscita a sottotitolare il video alle 9 mi sono caracollata alle poste non funzionava ovviamente il display delle prenotazioni va bene mi metto in fila faccio questo reso corro in palestra e dopodiché vado a fare la spesa con arnella e il resto è storia visto che ho anche fatto il post per instagram di la la lab perché mi ha inviato tramite octoli un mini book ve lo volevo far vedere anche in video non mi hanno chiesto di fare il video però siccome dalle foto secondo me non si vede niente non si capisce ve lo volevo far vedere anche qui perché io ho sempre acquistato dalla lab soprattutto il formato polaroid ce l'è anche lì vedete quelle lì tantissimo tempo fa levo comprate da sola sulla la lab e con la qualità mi sono sempre trovata bene su octoli c'era la possibilità di ricevere il mini book e io l'ho fatto con praticamente tutte le foto in ordine cronologico mie e di stefano del nostro 2019 che eravamo in giappone o uno sconto credo la ricetta fit 8 euro ne costa 12 quindi credo che sia un buono sconto però vabbè ve ne parlo meglio su instagram la ricetta fit ma veniamolo da quanto sparando 5 minuti veniamo la sua tra spesa vi faccio vedere i surgelati perché c'erano un po di novità e quindi passo dai surgelati surgelato allora questa cremosa di cavolfiore arancione carote e patate dolci della linea italiamo all'interno 50 per cento di verdure cotte tra cui cavolfiore carote e patate dolci e porro acqua olio extravergine di oliva c'è un po di sale non l'ho provato ovviamente ne riparleremo nei finiti food l'ho girato qualche giorno fa lo trovate già online nell'ultimo broccoli di calabria e patate a base di patate della sila igp cosa c'è dentro broccoli sale patate della sila perfetto sono curiosa a me i broccoli non piacciono ma le patate della sila sì quindi ho detto beh è un'occasione per mangiarmi anche i broccoli crocchette le ho prese per stefano in realtà tempo fa le avevo prese le avevo assaggiate anche io non erano male sono al 99 per cento patate c'è l'olio di girasole il siero di latte il destrozo sale cipolla sono buone sono praticamente delle crocchette di patate ma non sono impanate rimangono leggere noi le facciamo al forno ovviamente perché sono prefitte però vi devo dire la vita sono buone 56 la porzione dai va bene poi era in offerta un euro e 11 questo me lo ricordo il contorno grigliato perché lo prendo molto spesso ve l'avevo parlato nei finiti del mese nel mese l'ultimo girato ed è buono lo prendo spesso e anche questa vellutata di verdure non era in offerta ma costa 99 centesimi quindi si può fare poi ho preso lo zero i salumi perché la carne lavorata come lo sapete rientra ormai è dato certo rientra tra gli alimenti sicuramente cancerogeni quindi va benissimo ridurre o eliminare i salumi tuttavia ogni tanto io ogni tanto stefano quelle due volte al mese in cui veramente arriviamo stanchissimi a casa ci sta queste spec se devo scegliere tra i salumi preferisco un buono spec magari un buon prosciutto di parma igp ogni tanto prendo la rosso di tacchino lo ammetto che mi piace tanto però vabbè ho preso patate dolci una ne ho presa in realtà perché gigante seguitemi su instagram perché vi sto postando anche farò un vota it in a day qui sul canale youtube ma su instagram nelle storie vi posto ogni giorno è il mio diario alimentare con anche i macronutrienti perché come sapete in questo periodo sto cantando sì sto contando i macros non così nello specifico però li sto contando per avere un'idea io quando li conto mi sento molto molto meglio soprattutto a livello di grassi quando tengo sotto controllo i grassi perché tendo a mangiarne pochi non so come mai mi piacciono giuro che io adoro i grassi però probabilmente quella tendenza ad averne paura è ancora rimasta e quindi ne mangio pochi e ovviamente per la nostra salute a parte ormonale ma soprattutto gastrointestinale i grassi vanno mangiati e quindi li tengo li traccio e mi trovo molto meglio poi ho preso i savoiardi perché quando ero a casa di mia mamma siamo andate dal caseificio e c'era una ricotta buonissima che noi prendiamo spesso senza crema di latte però è comunque una ricotta bella corposa praticamente la mia mamma si è messa a dieta è come me e quindi abbiamo fatto un dolcino light abbiamo praticamente mescolato un po questa ricotta con dello sciroppo d'agave e abbiamo fatto un tiramisù molto light arriverà la ricetta su instagram però li ho ricomprati perché muoio dalla voglia di rifarlo e di farlo provare anche a stefano quindi savoiardi ho preso un peperone gigante rosso e un peperone giallo vi ho fatto vedere come li preparo li lavo e li butto in forno quando praticamente accendo il forno per fare altre cose lo lascio acceso altri 40 minuti butto nella teglia semplicemente i peperoni lavati li faccio cuocere con 30 minuti 40 minuti dipende dalla dimensione del peperone spengo lascio leggermente la sportella aperto il giorno dopo li spello e li tengo in frigo 35 giorni ben chiusi nel barattolo ermetico di vetro così avete sempre la vostra porzione di verdure al forno io poi adoro i peperoni quindi top poi c'è la settimana americana da lidl quindi siamo andati con stefano quindi c'era il bambino appresso e quindi abbiamo preso questo preparato per pancake nella bottiglia bisogna solo aggiungere credo il latte o le uova comunque 12 14 pancake per le sue mattine poi gli spezzo sono 15 c'è degli egg noodles quindi sono dei della pasta fresca diciamo sono curiosa di provarli perché quelli agli spinaci mi piacciono tanto questi qui sono semplicemente con un uovo e farina ho ripreso la schivella se siete curiosi anche di questa ve ne ho parlato nello scorso finiti ho preso la birra e ho preso anche il pollo preso un po l'intero che non credo di aver portato qui perché sarà in frigo e io prendo la birra per cucinarci il pollo fondamentalmente la ricetta è su instagram tutte le cose di cui io vi parlo ve le linko qui sotto state tranquille aprite dove c'è scritto mostra altro descrizione del video e troverete tutti i link ho ripreso le barrette proteiche di lidl è una nuova uscita in realtà io avevo provato questa qui brownie al cioccolato ed era un po scettica in realtà mi era piaciuta tanto così adesso che ci sono ritornata ho preso i vari gusti cookies e vaniglia e altre di brownie al cioccolato vaniglia yogurt è l'unica che non ho preso quella fragole e cioccolato perché non mi ispira molto allora le barrette proteiche partiamo dal presupposto che sono una chimicata da mangiare proprio in casi estremi sapete che le mie preferite sono a parte le naked che però qui non si trovano si trovano principalmente io li trovo a londra quando vado lì ma le mie preferite sono le fit le fit bar di avicenna che vengono vendute su amazon tranquillamente anche di questo vi linko vi linko qui sotto però cosa cosa cercano ma in quelle barrette nulla perché fondamentalmente sono super naturali però sono a base di datteri quindi sono abbastanza sbilanciate per quanto riguarda i carboidrati ovviamente sono zuccheri buoni e va benissimo però mi limitano poi nel resto della giornata con i carboidrati quelle continuo ad adorarle e ne ho sempre una scorta appunto per le emergenze e per quando viaggio quando si viaggia il macronutriente che si tende a non mangiare abbastanza sono sempre le proteine quindi usiamo le barrette proteiche esclusivamente in questi casi estremi queste qui sono buone ben bilanciate il sapore non mi dispiace 99 centesimi poi ho preso questo il brodo quello lì il cuore di brodo knorr che mi piace tanto anche questo non è una cosa che ne abuso però da quel twist in più ne basta veramente un pizzichino alle verdure in padella mi piace a tanto sale quindi ho preso gli spaghetti di gragnano la scottona per stefano io tendo a non mangiare carne rossa ho preso dei finocchi la piadina romagnola italiamo questa qua è buonissima ma l'ho preso il pollo aspetta ho preso il pollo credo di farlo stasera adesso lo butto subito in forno questa zuppa toscana che sono curiosissima di provare e praticamente farlo con legumi quindi anche questo lo troverete nei finiti la ricotta la mia amata ricotta vado veloce perché vedo che si sta scaricando la fotocamera ho preso i funghi un avocado la buccia questo buonissima era in offerta poi ho preso le chicche di patate sia tricoloriche bianche sono buonissime valori ottimi ve le consiglio l'albume d'uovo perché ci faccio i pancake lo skir perché non yogurt bianco senza zuccheri ed è buonissimo ultima cosa la passata di pomodoro questa qua linea italiamo non ha il sale e non ha lo zucchero quindi la prendo spesso allora il suo dalla spesa è finito qui sempre col fiatone spero di avervi fatto compagnia di avervi dato qualche spunto fatemi sapere cosa acquistate voi da lidl che magari mi sono persa fatemi sapere se avete provato quelle cose nuove di cui io sono curiosissima e mi raccomando venite a trovarmi su instagram la ricetta fit o sul mio sito di ricette ricette fit punto it noi ci vediamo alla prossima lasciatemi un commento mi raccomando grazie alla prossima ciao